bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi in questo video vi parlerò di un'arma completamente buggata o meglio di una perk completamente buggata per chi non sapesse di cosa sto parlando vi invito a scrivere nei commenti cosa non vi è ben chiaro per chi invece ha già dimestichezza col gioco sto parlando di una perk che è stata completamente rimossa con il nuovo sistema di recombustulazione introdotto più o meno a maggio e appunto è introvabile quindi per i più esperti vi consiglierò a fine video cosa poter fare intanto vi lascio alla clip vera e propria andiamo a vedere comunque quest'armi se vedete l'ultima perk è colpire un bersaglio afflitto caso una piccola respinta dare l'effetto attorno a esso tempo di ricarica 5 secondi noi lo andremo a provare col difensore che a quanto pare questo perk di ricarica che alla fine non esiste vi farò vedere un esempio con il rugito del drago ringrazio re claus per la sua partecipazione e anche mio fratello per la sua disponibilità tutti useremo un difensore con quest'arma e uno con la spada con sempre la stessa perk buggata alla fine vi lascio al resto della clip per la sua partecipazione e non è vero che si può essere un bel rischio la prima volta che si può essere un bel rischio per il rischio di ricarica di 5 secondi non ho visto che mi chiamo per ieri vedi 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 Grazie a tutti. Guarda l'ho. Non è in balza. C'è neanche bisogno degli spazzatori. E ripetiamo raga, queste armi sono improbabili con le nuove aggiornamenti sono armi. Delle aggiornamenti precedenti. Si gioca prima del percorro al progetto. È una cosa che secondo me gli altri canali in dubbio si porteranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io non sparo tantissimo a poca per farlo vedere perché basterebbe fare uno squarto. Come potete vedere quest'arma è completamente buggata raga. Quindi io consiglio a chi gioca la prima dell'introduzione del recombustulatore. Consiglio di andare nel registro raccolta e vedere quante delle vostre armi hanno questa perk e in caso ce l'avete ritirarla perché è veramente, cioè secondo me è una cosa imbarazzante. Quindi ragazzi, io sono in possesso di tre progetti con questa perk molto singolare. Voi invece quante ne avete? Fatemelo sapere nei commenti e se in caso vi è andata male e non ne avete trovata neanche una, non allarmatevi. Sceglierò i primi cinque partecipanti che scriveranno nei commenti io voglio l'arma buggata per sceglierne una tra i miei progetti a vostra scelta. Raga vi chiedo un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!